Ciao a tutti dell'Onora! Oggi torniamo a parlare di prodotti Apple, in particolare oggi voglio presentarvi l'Apple Watch Series 7. Per chi conosce già gli smartwatch saprà che cosa un Apple Watch ha da offrire, ma lasciatemi fare comunque una piccola panoramica sulle novità di questo ultimo modello. L'Apple Watch Series 7 è disponibile in cinque colori diversi, verde, azzurro, rosso, galassia, mezzanotte, come quello che ho qui in mano. Il suo display è molto più grande rispetto ai modelli precedenti, pensate infatti che è il 50% più ampio dell'Apple Watch Series 3. La dimensione dei display è molto importante in questa nuova versione perché migliora decisamente l'esperienza di utilizzo di diverse applicazioni. Ad esempio è possibile scrivere i propri messaggi tracciando le lettere sul display, oppure mantenere a schermo più timer e widget contemporaneamente. Lo schermo inoltre non è solo aumentato nelle dimensioni, ma adesso possiede un display OLED e un cristallo anteriore più spesso per renderlo ancora più resistente agli urti. L'Apple Watch Series 7 è anche resistente a polvere e acqua. La certificazione IP6X garantisce un'impermeabilità anche durante le immersioni fino a 50 metri di profondità. Tutta questa attenzione alla resistenza di questo smartwatch è dovuta al fatto che è stato anche pensato per tutti coloro a cui serve un assistente durante le sessioni di allenamento. Sì perché Series 7 è dotato di un sensore e di un'App all'avanguardia che ti permettono di monitorare in ogni istante le tue prestazioni fisiche. I dati restituiti sono molto affidabili grazie alla misurazione del livello di ossigeno nel sangue. È un parametro ovviamente estremamente importante per determinare il tuo stato di salute. Ci sono una marea di App dedicate al vostro benessere e alla vostra salute. Alcune vi aiutano a trovare dei momenti di pausa nelle vostre giornate, altre invece vi monitorano durante il sonno per accertarsi che dormiate sogni tranquilli. Inoltre grazie all'App Apple Fitness Plus avrete un piccolo allenatore sempre con voi. Quest'App è il fiore all'occhiello degli smartwatch Apple. Dovete infatti assolutamente provarla. Non bisogna però dimenticare che questo smartwatch non è solamente dedicato agli sportivi. Con l'Apple Watch Series 7 insieme a voi non avrete bisogno di nient'altro. Musica, telefono, messaggi, notifiche, carte di credito e documenti. Tutto sarà sul vostro polso anche l'immancabile assistente Siri di casa Apple. Per concludere vorrei parlarvi dell'autonomia. Abbiamo notato che dopo 8 ore di utilizzo la batteria cala circa del 30% quindi se volete averlo sempre con voi dovrete ricaricarlo ogni notte, ogni mattina se volete anche un monitoraggio del sonno. Per fortuna la ricarica è estremamente rapida, in circa 45 minuti si ricarica dell'80% e in un'ora si ha la ricarica completa. Se questa recensione vi è piaciuta e incuriosito o volete provare l'Apple Watch Series 7 lo potete trovare ovviamente su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Mi raccomando supportate il nostro lavoro mettendo un mi piace ed iscrivendovi al nostro canale YouTube e se vi va lasciateci anche un commento. Ciao a tutti e al prossimo video! Ciao!